Una giornata fulgida di sole qui alla reggia di Venaria, dove il 22 di giugno inauguriamo una grande mostra dedicata a un'infinita bellezza. Vi proponiamo una serie di dipinti in questa sorta di trailer. Il primo oggi è di Giuseppe Pietro Baggetti, artista torinese, nato nel 1764 e morto nel 1831, che ha dipinto questo bellissimo paesaggio di plenilunio notturno, con le rovine di una città antica italiana e con questo mare in primo piano. Cosa rappresenta il sublime, quella bellezza che è in qualche modo la tipologia propria dell'Italia? Vi invitiamo a visitare la mostra che durerà fino al primo novembre.